News News Lo avete sentito dai titoli, ancora una volta la Fincantieri, l'azienda più grande del Levante Ligure con i suoi 800 dipendenti diretti e 600 di ditte esterne è la più grande e naturalmente poi c'è anche lo spezzino col Mugiano. Qual è però la preoccupazione? Questa volta non sono i carichi di lavoro, le cose stanno andando abbastanza bene, durante l'ultimo varo è stato rassicurato che il lavoro ci sarebbe stato per una decina d'anni, però ciclicamente ritorna la vicenda dell'entrata in borsa del titolo. Ora è evidente che l'entrata in borsa e la quotazione di Fincantieri, un'azienda che ha sì un ramo commerciale ma anche un ramo militare, quindi la valutazione di un titolo va anche su questa situazione, cioè il militare normalmente lo paga lo Stato italiano. Insomma è una cosa tutt'altro che importante, probabilmente lo sarà di più per il prossimo amministratore delegato perché come tutti sanno il Presidente del Consiglio Renzi ha limitato a 239 mila euro gli stipendi degli statali, dei manager statali, la Fincantieri statali, però c'è un però che se il titolo viene quotato in borsa lo stipendio dell'amministratore delegato può addirittura arrivare a un milione, un milione e mezzo di euro, non ha un limite, è legato all'andamento del titolo, quindi è una battuta, però ci può stare anche questa. Vediamo il servizio. I rappresentanti della RSU della Fincantieri di Riva Trigosa e dei rappresentanti sindacali hanno incontrato il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, giunta ieri sera a Casarza Ligore per sostenere la candidatura a sindaco per il centro-sinistra di Federico Bertello. Il Ministro è favorevole alle entrate in borsa del titolo Fincantieri, dice risoluto un sindacalista, ma non sa dare spiegazioni plausibili per questo tipo di operazione. È un'occasione di fare cassa, dice il Ministro. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione e va nelle direttive del Governo. Arriveranno risorse nuove da investire. I sindacati però incalzano. Quale quota societaria sarà introdotta in borsa? Chiede Sergio Ghio, segretario per il Tiguglio della FIOM. Come saranno investiti gli utili se l'azienda non ha ancora presentato un piano industriale? Si investirà in Italia oppure per comprare cantieri in giro per il mondo? I sindacalisti non ricevendo risposte del Ministro della Difesa hanno quindi consegnato un documento da presentare a Roma al Presidente del Consiglio. Con questi interrogativi e con le perplessità, l'entrata in borsa è un pallino fisso dall'amministratore delegato Giuseppe Bono, dice Ghio, che aveva già tentato l'operazione dieci anni fa. Ora sembra incredibile che dopo l'impegno governativo di 5 miliardi da spendere in 20 anni, si voglia quotare la finca antieri in borsa, compreso anche il settore militare. E naturalmente di questo argomento torneremo a parlare. Oggi c'è stato un incontro a Roma da parte della FIOM proprio per parlare dei carichi di lavoro e di questa situazione. Quindi sicuramente riusciremo poi ad intervistare, se non proprio domani, in settimana, i sindacalisti. E ora voltiamo pagina, anche se parliamo di attività sempre di commercio, quindi sempre di economia. Ne parliamo a Lavagna, domenica è la festa della mamma e i CIV del Centro Storico di Lavagna, che è stato rinnovato, ci sono molti giovani esercenti che hanno voglia di fare. Ecco, in questa occasione, la festa della mamma, hanno deciso di tenere aperto i negozi per l'intera giornata. Sentiamo Elisa Fogli. Nuova iniziativa firmata CIV Centro Storico e Lavagna in occasione della festa della mamma. Domenica, negozi aperti per l'intera giornata e opportunità di un regalo ad hoc da andare a scegliere nelle attività. Sì, esattamente. Domenica 11 maggio, Lavagna, tutti i commercianti del Centro Storico e anche delle zone limitrofe, si proporanno con proposte speciali per tutte le mamme, articoli ad hoc scontati per alcuni. Saremo aperti tutto il giorno, viste anche già le iniziative che abbiamo fatto per Pasqua, 25 aprile, 1 maggio degli weekend, in cui siamo stati tutti aperti, graditi, abbiamo visto da molti turisti e anche da molte persone. Ripetiamo appunto per l'11 di maggio, tutti assieme per la festa della mamma. Intanto state mettendo appunto gli ultimi dettagli per il primo appuntamento della nuova stagione, Lavagna in festa. Esattamente, diciamo Lavagna in festa è già una manifestazione che curiamo da parecchi anni, nota anche come la festa delle Gaggette PIN. Quest'anno, oltre che il 2 giugno, giorno di festa della Repubblica, uniamo il 31 maggio e il 1 giugno, che sono sabato e domenica, con il 2 giugno e lunedì, sempre con attività aperte, mostra d'arte nel porticato Brignardello, mostra in Vionova Italia, legate al tema La nostra gente e il mare. In più, in piazza Vittorio Veneto, giochi per bambini e anche in piazza della Libertà ci saranno manifestazioni sportive delle società della nostra città. Questa mattina è stata presentata una manifestazione, Gente di Mare, che è giunta alla nonna edizione, una manifestazione che vede coinvolte le istituzioni, l'arma della Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porta, eccetera, e anche le scuole. Quindi, vediamo il servizio. Si svolgerà a martedì 13 maggio, Gente di Mare, l'ennesima manifestazione in collaborazione con le scuole del territorio, siamo giunti alla nonna edizione. Sì, addirittura alla nonna edizione, siamo molto orgogliosi, la decima speriamo che sia ancora più bella, grazie all'aiuto di tutti. È una manifestazione nata con la vecchia presidenza, che sono il nuovo presidente, e in continuità con questo lavoro, che è difficile da organizzare, stiamo mettendo tutte le forze, soprattutto i soci, si stanno veramente dando un grande affare, sia la parte dell'area culturale e sociale, che accompagneranno e costudiranno anche gli stand e hanno organizzato tutto questo. Per chi non sapesse cos'è Gente di Mare, vogliamo spiegare in cosa consiste questa manifestazione, che si svolgerà in passeggiata sopra il porto. Sì, quest'anno, come l'anno scorso, si svolge sopra, perché purtroppo i lavori del porto stanno andando un po' alle lunghe, però questo permette alla cittadinanza, che vedrà più di 300-350 ragazzini delle quarte elementari, delle scuole, del comprensorio, quest'anno si è aggiunta anche la bagna, girare per degli stand dove potranno avere incontri sia con le forze dell'ordine, che lavorano sul mare, dalla Guardia Costiera, Carabiniere, Guardia di Finanza, anche con quelle associazioni che si occupano di ecologia, che si occupano del, per esempio, il sestante, della cultura del cielo, delle stelle, e con noi che, come Lega Navale, ci occupiamo un po' di tutto, dall'attività sportiva, canottaggio, vela, alle patenti nautiche, ma soprattutto alle attività culturali, quindi le manifestazioni che già facciamo anche d'inverno, uomini e navi, eccetera. L'ennesima manifestazione cittadina, il Banco di Chiaveri ovviamente è presente. E proprio come ha detto lei, ovviamente è presente, il Banco di Chiaveri, siamo contenti in una spenda giornata, in un'iniziativa davvero bella che coinvolge le scuole e testimonia ancora una volta la vicinanza del nostro istituto, del Banco di Chiaveri, al territorio, alle persone. Il titolo è la giornata è Gente di Mare, la Gente di Mare siamo noi, la Gente di Mare è il nostro territorio, sono le persone, le famiglie, verso cui il Banco di Chiaveri ha sempre un occhio di riguardo e un'attenzione particolare. Credo che sarà, come è stato anche per le altre edizioni, una bellissima manifestazione, con il coinvolgimento dei bimbi delle scuole, per cui questo mi conforta sia come da Chiavarese, da dipendente del Banco di Chiaveri, dell'istituto che è un istituto di riferimento sulla piazza, e anche da papà che ha una bimba che era venuta a fare questa manifestazione che è davvero, davvero molto bella. Ora passiamo a Lavagna, domani alle 9.30 presso il piazzale della chiesa di Santa Giulia verrà intitolata una targa a Mario Berisso Batolla, un giovane partigiano nato a Santa Giulia al 10 giugno del 24. Durante lo svolgimento dell'ultimo rastrelamento, il 9 aprile del 45, a Santa Vittoria di Libiola venne catturata e fu barbaramente ucciso. Alla cerimonia parteciperanno Giorgio Getto Viarengo e gli alunni del corso musicale dell'Istituto Comprensivo di Lavagna. E ora ricordiamo che domenica ci sarà la grande manifestazione a Camogli, la sagra del pesce, e praticamente nella grande padella dei Guinness dei Primati del peso di 26 quintali a un diametro di 4 metri, appunto domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, pensate in due ore, verranno fritte 3 tonnellate di pesce. naturalmente si raccomanda di poter andare con i mezzi pubblici, in particolare il treno, ci sarà un treno cosiddetto storico, che il giorno 10 sia di giorno e poi rientro di notte partirà da Sarzana e quindi arriverà fino a Camogli. Noi ora parliamo di una gara ciclistica che si svolge domenica per ricordare la tragedia che tre anni fa vide un corridore morire durante il Giro d'Italia al passo del Bocco di Chiavari. Vediamo. Domani si svolgerà la gara ciclistica Reggio Emilia-Rappallo organizzata dalla Geo Davidson-Rappallo in ricordo del corridore belga Woters-Weiland morto sul passo del Bracco durante il Giro d'Italia del 2011. È una manifestazione cicloturistica a cui possono partecipare tutti i tesserati e si svolge appunto in ricordo di questo atleta che giovanissimo è scomparso durante la manifestazione. La partenza da Reggio Emilia alle 10 del mattino e intorno alle ore 16 e 16.30 avverrà la commemorazione davanti al Cippo posto nella discesa del Bocco e poi l'arrivo a Rappallo dove gli atleti saranno accolti presso la sede internazionale del Panathlet International. Poi abbiamo la collaborazione di parecchie associazioni di volontariato e di alcune aziende che ci hanno gentilmente fornito i materiali per ristoro. Ricordiamo anche le motostaffette del Motoclub Tiguglio che nel tratto finale ci assisteranno nell'attraversamento da Carasco, Chiavari fino a Rappallo attraversando il centro storico anche di Chiavari con tutta la carovana col numero 108 che era il numero assegnato al corridore Siamo ora a Chiavari premio di laurea Giuseppe Barile Pietro Verri per la diffusione del diritto umanitario, dei diritti dell'uomo e dei diritti dei rifugiati il premio giunta alla sua dodicesima edizione è promosso dalla Croce Rossa di Chiavari la cerimonia di premiazione si svolgerà domani alle 9.15 nella sede della società economica Ora rimaniamo a Chiavari, questa mattina chi è passato in piazza a Matteotti avrà visto un gruppo di donne che fanno parte dell'asilo Nido, il Castello Incantato che avevano un questionario da proporre Vediamo le interviste fatte da Guido Scaglia Oggi siete in piazza a Chiavari per parlare di pet therapy Fate un questionario, cosa chiedete alle persone che passano? Questo questionario noi chiediamo se intanto conoscono la pet therapy e poi se condividono gli animali in casa, la presenza di animali in casa negli asili Nido, nelle scuole materne, nella scuola del primaria e anche nelle strutture ospedaliere e nelle case protette A nostro avviso molte persone non conoscono questa terapia Ecco, questo questionario a che cosa è finalizzato? Che cosa volete divulgare? Intanto, secondo il nostro punto di vista, i bambini non sono abituati ad avere contatto con gli animali e questo serve a loro anche per socializzare sia con gli animali che con altri bambini superare degli stati d'ansia e di paura e riuscire ad avere un'autostima e per i bambini extracomunitari a socializzare con altri bambini Ecco, questo anche perché il Castello Incantato, che è la struttura che gestite come CIF ha la presenza di animali che possono essere da compagnia e di aiuto per i bambini Sì, noi al Castello Incantato abbiamo due caprette e un coniglio e i pesci rossi da circa due anni e i nostri bambini, soprattutto nelle belle giornate, vanno a contatto con questi animali Parallelamente il CIF continua i corsi per cui è più famoso e adesso ci sono le iscrizioni Sì, oggi proprio in questo luogo promuoviamo le iscrizioni per i nuovi corsi che sono la decorazione di porcellana, la macramè, il tombolo, la cartapesta, il trompele che sono i corsi per cui il CIF è conosciuto Ecco, i corsi inizieranno quando? Allora, adesso i corsi si possono ancora continuare fino al periodo estivo di giugno poi dopodiché riprenderemo a settembre con altri corsi Seconda parte del Tg Tiguglio Partiamo con un appuntamento che è molto particolare e simpatico Domenica ci saranno, col titolo Funghi di primavera ci sarà una mostra micologica in Val d'Aveto che è un territorio naturalmente che oltre a essere rinomato per i funghi nei mesi, diciamo, fine estate, autunnali anche in primavera ha dei particolari funghi Il parco, in collaborazione col gruppo micologico vogherese allestirà una mostra presso il centro visite di Rezzo Aglio per poter apprezzare e conoscere i funghi che nascono nei nostri boschi a primavera ed in particolare gli spinaroli piccoli funghi dal profumo e sapore intenso L'ingresso è gratuito, l'orario dalle 8.30 alle 12 dalle 14 alle 17.30 Ora andiamo a Chiavari torna sabato e domenica al mercatino dell'Antiquariato Inoltre domenica dalle 8 alle 20 in Piazza Mazzini ci sarà anche la manifestazione degli artisti di strada Come sempre le due iniziative sono organizzate dalla Promotour E domani, ricordiamo anche che domani alle ore 21 al teatro di Cicania andrà in scena lo spettacolo Follie del Varietà con Andrea Benfante E ancora un appuntamento questa volta elettorale a Rapallo Domani è previsto il presidio e il volantinaggio dei candidati della lista dei comunisti Partito Comunista Lavoratori insieme al candidato sindaco Andrea Carannante e questo nei pressi del parcheggio adiacente alla nuova chiesa di Sant'Anna Ed ora andiamo a Sesti Levante un nuovo progetto di decoro urbano per essere realizzato dopo il murale sulla scala di Via Lombardia fatta l'anno scorso Si tratta di un murale e sarà figurante una spaccatura del muro esterno della palestra della scuola media di Via Val di Canepa che sarà seguito dalla professoressa Cristina Rosso e tecnicamente seguito dall'artista sestrina Monica Marcenaro insieme agli allunni di tre classi della scuola secondaria di primo grado e l'istituto comprensivo appunto di Sestri coadiuvata dalla giovane artista Carlotta Sangaletti il muro dei ragazzi sarà inaugurato poi in occasione del festival Andersen e ora parliamo di sposi perché domenica e lunedì a Sesti Levante alla Villa Esedra di Santo Stefano ci sarà un appuntamento particolarmente interessante da non perdere vediamo emozionalità nuziale e territorialità un mix esclusivo per un evento imperdibile firmato Domo Adami e l'Eseda due giorni dedicati ai futuri sposi domenica dalle ore 10 per l'intera giornata e nuovamente lunedì nella splendida location di Sestri Levante in una sorta di simulazione del grande giorno si potranno scoprire le nuove collezioni Domo Adami 2015 in un'atmosfera da favole di eleganza tra gli olivi di Villa Esedra allestimento floreali, sapori e territorialità emozionale come spiega Raffaella Rimassa dell'Esedra ed esperta consulente nel settore wedding i diversi momenti dell'evento saranno scanditi anche da preziosità biogastronomiche espressione del territorio e dopo l'appuntamento appunto per i futuri sposi parliamo un attimino di calcio come tutti i fine settimana e ora si involge il mese di maggio naturalmente vede la fine dei campionati vediamo cosa ci racconta Joël Capello domani per il campionato di seconda categoria Aldanieri di Caperana alle 16.30 si giocherà lo spareggio per salire in prima fra San Lorenzo e Moneglia sempre domani ma alle 16 si giocheranno anche la semifinale playoff Rapide Nozzarego Calvarese al Broccardi di Santa Margherita Ligore ed il play out Atletico Casazza a Ciasetta al Comunale di Casazza Ligore per i play out di prima categoria Girone B alle 19 al Macera di Rapallo Ruentes Masone per la giornata di domenica per i play out di prima categoria per il Girone C alle 10.30 Mura Angeli Prorecco per il Girone D alla stessa ora United Rebocco Sestieri per il primo turno dei play off di Serie D domenica alle ore 16 al Macera di Rapallo Rapallo Bogliasco Lavagnese in eccellenza alle 16.30 il Riboli di Lavagna ospiterà lo spareggio per salire di categoria tra Argentine e Magra Zurri alla stessa ora l'Anderson di Sesselevante e Riva Samba Casazza Ligore per i play out di promozione alle 16.30 Ceparana Camogli Avegno e Don Bosco Spezia Santa Maria San Salvatore per la semifinale per il titolo di campione regionale di prima categoria alle 16.30 a Bogliasco Val Daveto Borzoli alla stessa ora per i play off di prima categoria girone di Levi Real Fiumaretta a San Bartolomeo di Levi infine per la Supercoppa italiana alle 18.30 al comunale di Chiavari la Virto Sentello ospiterà il Perugia per la gara di andata il ritorno si disputerà giovedì alle 20.45 con Diretta TV di Rai Sport e con il calcio finisce il TG odierno vi lascio al meteo e auguro una buona serata a tutti benvenuti al meteo ecco le previsioni per domani sabato 10 maggio mattinata abbastanza soleggiata dalle ore centrali aumento della nuvolosità che comunque risulterà irregolare e più insistente sul centro della regione 20 deboli variabili con rinforzi pomeridiani da sud le temperature previste sulla costa 14 la minima 22 la massima nell'interno 9 la minima 18 la massima